Geremia capitolo trentanovesimo Quando Gerusalemme fu presa il nono anno di Sedechia, re di Giuda, il decimo mese, Nebucadnese, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la scinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo. Nerga Serezer, Samgal Nebu, Sarzekin, capo degli Enucchi, Nerga Serezer, capo dei Maghi e tutti gli altri capi del re di Babilonia. E quando Sedechia, re di Giuda e tutta la gente di guerra li ebbero veduti, fuggirono, uscirono di notte dalla città per la via del Giardino Reale e per la porta fra le due mura e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei caldei li inseguì e raggiunsero Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo presero, lo menarono su da Nebucadnese, re di Babilonia, a Ribla nel paese di Yamath, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. E il re di Babilonia fece scannare i figlioli di Sedechia a Ribla sotto gli occhi di lui. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda, poi fece cavare gli occhi a Sedechia e lo fe legare con una doppia catena di rame per menarlo in Babilonia. I caldei incendiarono la casa del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme e Nebuzaradam, capo delle guardie, menò in cattività a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradam, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Or Nebucannese, il re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradam, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Prendilo, veglia su lui e non gli fare alcun male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Così Nebuzaradam, capo delle guardie, Nebushazban, capo degli enuchi, Nergazerezzer, capo dei maghi, e tutti i capi del re di Babilonia, mandarono a far trarre Geremia fuori dal cortile della prigione e lo consegnarono a Gedalia, figliolo di Haikam, figliolo di Shafam, perché fosse menato a casa, e così egli abitò fra il popolo. Ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. Va e parla Abed Admelech, l'Etiopo, e digli, così parla l'Eterno degli eserciti, l'iddio di Israele. Ecco, io sto per adempire su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice l'Eterno, e tu non sarai dato in mano agli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, giacché hai posto la tua fiducia in me, dice l'Eterno. Geremia, capitolo quarantesimo La parola che fu rivolta dall'Eterno a Geremia dopo che Nebusaradan, capo delle guardie, l'ebbe rimandato da Rama. Quando questi lo fece prendere, Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda che dovevano essere menati in cattività a Babilonia. Il capo delle guardie presse dunque Geremia e gli disse Ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani, se ti piace di venire con noi a Babilonia, Vieni e io avrò cura di te, ma se non ti aggrada di venire con me a Babilonia, rimanetene ecco tutto il paese ti sta dinnanzi. Va dove ti piacerà e ti converrà d'andare. E come Geremia non si decideva a tornare con lui, l'altro aggiunse Torna da Gedalia, figliolo di Aachim, figliolo di Shaphan, che il re di Babilonia ha stabilito sulle città di Giuda e dimora con lui in mezzo al popolo, ovvero va dovunque ti piacerà. E il capo delle guardie gli dette delle provviste un regalo e la comietò. E Geremia andò da Gedalia, figliolo di Aachim, a Mizpah e dimorò con lui in mezzo al popolo, che era rimasto nel paese. Or quando tutti i capi delle forze che erano per le campagne ebbero inteso, essi e la loro gente che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia, figliolo di Aachim, sul paese e che egli aveva affidato agli uomini, le donne, i bambini e quelli tra i poveri del paese che non erano stati menati in cattività a Babilonia, si recarono da Gedalia a Mizpah. Erano Ishmael, figliolo di Netania, Joanan, Jonathan, figliolo di Carreac, Serraia, figliolo di Tantumet, e i figlioli di Efai, di Netofa e di Giasania, figliolo di Maacatita. Essi e i loro uomini. E Gedalia, figliolo di Aachim, figliolo di Chafan, giurò loro e alla loro gente, dicendo Non temete di servire i caldei. Abitate nel paese, servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi. Quanto a me, ecco, io residerò a Mizpah per tenermi agli ordini dei caldei che verranno da noi e voi raccoglierete il vino, le frutte d'estate e l'olio, metteteli nei vostri vasi, dimorate nelle città di cui avete preso possesso. Anche tutti i giudei che erano in Moab fra gli Ammoniti nel paese di Edom e in tutti i paesi quando dirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia, figliolo di Aikam, figliolo di Chafan, se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda da Gedalia a Mizpah e raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza. Or, Gioanan, figliolo di Carea, e tutti i capi delle forze che erano per la campagna vennero da Gedalia a Mizpah e gli dissero «Sai tu che Baaliss, il re degli Ammoniti, ha mandato Ismael, figliolo di Netania, per toglierti la vita? Ma Gedalia, figliolo di Aikin, non credette loro». Allora Gioanan, figliolo di Caret, disse segretamente a Gedalia a Mizpah «Lascimi andare ad uccidere Ismael, figliolo di Natania, nessuno lo risaprà perché ti toglierebbe egli la vita e tutti i giudei che si sono raccolti presso di te e andrebbero essi dispersi, e il residuo di Giuda per i re belli?» Ma Gedalia, figliolo di Aikin, disse a Gioanan, figliolo di Caret «No, non lo fare, perché questo che tu dici di Ismael è falso». Geremia, capitolo quarantunesimo E il settimo mese Ismael, figliolo di Netania, figliolo di Elisciama, della stirpe reale e uno dei grandi del re, venne con dieci uomini da Gedalia, figliolo di Aikin, a Mizpah, e quivi a Mizpah mangiarono assieme. Poi Ismael, figliolo di Netania, si levò con dieci uomini che erano con lui e colpirono con la spada Gedalia, figliolo di Aikin, figliolo di Shafam così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese. Ismael uccise pure tutti i giudei che erano con Gedalia a Mizpah e i caldei, uomini di guerra che si trovavano quivi. Il giorno dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, prima che alcuno ne sapesse nulla, giunsero da Shiloh e da Samaria ottanta uomini che avevano la barba rasa, le vesti stracciate e delle incisioni sul corpo e avevano in mano delle offerte dell'incenso per presentarle alla casa dell'Eterno. E Ismael, figliolo di Netania, uscì loro incontro da Mizpah e camminando piangeva e come li ebbe incontrati disse loro «Venite da Gedalia, figliolo di Aikam» e quando furono entrati in mezzo alla città Ismael, figliolo di Netania, assieme agli uomini che aveva seco li scannò e li gettò nella cisterna. O fra quelli ci furono dieci uomini che dissero a Ismael «Non ci uccidere, perché abbiamo nei campi delle provviste nascoste di grano, d'orso, d'olio e di miele». Allora, egli si trattenne e non li mise a morte con i loro fratelli. Ora, la cisterna nella quale Ismael gettò tutti i cadaveri degli uomini che egli uccise con Gedalia è quella che il re Asa aveva fatto fare per tema di Baasa, re d'Israele e Ismael, figliolo di Netania, la riempì di uccisi. Poi Ismael menò via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispah le figlioli del re, tutto il popolo che era rimasto a Mispah e sul quale Nebusaradan, capo delle guardie, aveva stabilito Gedalia, figliolo di Aikam Ismael, figliolo di Netania, li menò via prigionieri e partì per recarsi dagli ammoniti. Ma quando Gioanan, figliolo di Carea e tutti i capi delle forze che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael, figliolo di Netania, aveva fatto presero degli uomini e andarono a combattere contro Ismael, figliolo di Netania e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon e quando tutto il popolo che era con Ismael vide Gioanan, figliolo di Carea e i capi delle forze che erano con lui, si rallegrò e tutto il popolo che Ismael aveva menato prigionieri da Mispah, fece volta faccia e andò a unirsi a Gioanan, figliolo di Carea ma Ismael, figliolo di Netania, scampò con otto uomini dinanzi a Gioanan e se ne andò fra gli ammoniti e Gioanan, figliolo di Carea e tutti i capi delle forze che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael, figliolo di Netania, aveva menati via da Mispah dopo che egli ebbe ucciso Gedalia, figliolo di Eicham, uomini, gente di guerra, donne, fanciulli e nucchi e li ricondusse da Gabaon e partirono e si fermarono a Geru Kimham presso Bethlehem per poi continuare a recarsi in Egitto a motivo dei caldei dei quali avevano paura perché Ismael, figliolo di Netania, aveva ucciso Gedalia, figliolo di Eicham che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese Geremia, capitolo 42 Tutti i capi delle forze Gioanan, figliolo di Carea, Gesania, figliolo di Osaia e tutto il popolo dal più piccolo al più grande s'accostarono e dissero al profeta Geremia De, sia ti accetta la nostra supplicazione e prega l'Eterno il tuo Dio per noi e per tutto questo residuo poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono gli occhi tuoi affinché l'Eterno il tuo Dio ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare e il profeta Geremia disse loro ho inteso, ecco, io pregherò l'Eterno il vostro Dio come avete detto e tutto quello che l'Eterno vi risponderà ve lo farò conoscere e nulla ve ne celerò e quelli dissero a Geremia, l'Eterno sia un testimonio verace e fedele contro di noi se non facciamo tutto quello che l'Eterno il tuo Dio ti manderà a dirci sia la tua risposta gradevole o sgradevole noi ubbidiremo alla voce dell'Eterno del nostro Dio al quale ti mandiamo affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce dell'Eterno del nostro Dio dopo dieci giorni la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia e Geremia chiamò Gioanan figliolo di Carreat tutti i capi delle forze che erano con lui e tutto il popolo dal più piccolo al più grande e disse loro così parla l'Eterno l'iddio di Israele al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplicazione se continuate a dimorare in questo paese io vi ci stabilirò e non vi distruggerò vi pianterò e non vi sradicherò perché mi pento del male che avevo fatto non temete il re di Babilonia del quale avete paura non lo temete dice l'Eterno perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano io vi farò trovare compassione dinanzi a lui egli avrà compassione di voi e vi farà tornare nel vostro paese ma se dite noi non rimaremo in questo paese se non ubbidite alla voce dell'Eterno del vostro Dio e dite no andremo nel paese d'Egitto dove non vedremo la guerra non udremo il suono di tromba e dove non avremo più fame di pane e qui vi dimoreremo ebbene ascoltate allora la parola dell'Eterno o superstiti di Giuda così parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio d'Israele se siete decisi a recarvi in Egitto e se andate a dimorarvi la spada che temete vi raggiungerà là nel paese d'Egitto e la fame che paventate vi sarà le calcagna là in Egitto e qui vi morrete tutti quelli che avranno deciso di andare in Egitto per dimorarvi vi morranno di spada di fame o di peste nessuno di loro scamperà sfuggirà al male che io farò venire su loro perché così parla l'Eterno degli eserciti di Dio d'Israele come la mia ira e il mio furore si sono riversati sugli abitanti di Gerusalemme così il mio furore si riverserà su voi quando sarete entrati in Egitto e sarete abbandonati all'esacrazione alla desolazione e alla maledizione all'opproprio e non vedrete mai più questo luogo oh superstiti di Giuda l'Eterno parla a voi non andate in Egitto sappiate bene che quest'oggi io v'ho premuniti voi ingannate voi stessi a rischio della vostra vita poiché mi avete mandato dall'Eterno dal vostro Dio dicendo prega l'Eterno il nostro Dio per noi e tutto quello che l'Eterno il nostro Dio dirà faccelo sapere esattamente e noi lo faremo e io ve l'ho fatto sapere quest'oggi ma voi non ubbidite alla voce dell'Eterno del vostro Dio né a nulla di quanto Egli mi ha mandato a dirvi or dunque sappiate bene che voi morrete di spada di fame e di peste nel luogo dove desiderate andare per dimorarvi Geremia capitolo quarantatreesimo or quando Geremia ebbe finito di dire al popolo tutte le parole dell'Eterno del loro Dio tutte le parole che l'Eterno il loro Dio l'aveva incaricato di dir loro Azaria figliolo di Hosahia e Gioanan figliolo di Carreat e tutti gli uomini superbi dissero a Geremia tu dici il falso l'Eterno il nostro Dio non t'ha mandato a dire non entrate in Egitto per dimorarvi ma Baruch figliolo di Neria ti incita contro di noi per darci in mano dei caldei per farci morire o per farci menare in cattività a Babilonia così Gioanan figliolo di Carea tutti i capi delle forze e tutto il popolo non ubbidirono alla voce dell'Eterno che ordinava loro di dimorare nel paese di Giuda e Gioanan figliolo di Carreat e tutti i capi delle forze presero tutti i superstiti di Giuda i quali di fra tutte le nazioni dove erano stati dispersi erano ritornati per dimorare nel paese di Giuda gli uomini le donne i fanciulli le figlioli del re e tutte le persone che Nebuzaradan capo delle guardie aveva lasciate con Gedalia figliolo di Aican figliolo di Safan come pure il profeta Geremia e Baruch figliolo di Neria ed entrarono nel paese d'Egitto perché non ubbidirono la voce dell'Eterno e giunsero a Tapanes e la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia a Tapanes in questi termini prendi nelle tue mani delle grosse pietre e nascondile nell'argilla della fornace da mattoni che è all'ingresso della casa di Faraone a Tapanes in presenza degli uomini di Giuda e di loro così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele ecco io manderò a prendere Nebuchadnezzar re di Babilonia mio servitore e porrò il suo trono su queste pietre che io ho nascoste ed egli stenderà su di esse il suo padiglione reale e verrà e colpirà il paese d'Egitto chi deve andare alla morte andrà alla morte e chi in cattività andrà in cattività e chi deve cadere di spada cadrà per la spada e Dio appiccherò il fuoco alle case degli dèi d'Egitto Nebuchadnezzar brucerà le case e menerà in cattività gli idoli e si avvolgerà nel paese d'Egitto come il pastore si avvolge nella sua veste e ne uscirà in pace frantumerà pure le statue del tempio del sole che è nel paese d'Egitto e darà alle fiamme la casa degli dèi d'Egitto